seconda giornata luca comics and games oggi vi farò vedere tutto quello che riguarda il mondo del cosplay quindi ragazzi persone in costume di film a videogiochi e chi più ne ha più ne vittà e canci quel rubicotto color platanico è più alto di me ok Dicevo prima a David qua chiacchierando che appena c'è una ragazza un attimo succinta come lei si crea una sorta di stormo di vecchi allupati De faticamente... Chi è? E scende la sera sul secondo giorno il venerdì di Luca Comics & Games Dopo una giornata carica e impegnativa ai comics siamo finiti a questa pizzeria in teoria buongustaio che però non fa pizza durante i comics ma fa solo piatti particolari Quindi con nomi di fumetti, nomi di... un po' tematizzati diciamo E intanto a me arriverà un bel paninone e a David non lo so Sorpresa Sorpresa Ve li faccio vedere a me Alla fine la birra che ho preso è la Darkest All The Way Session IPA della Svezia Ha un gusto decisamente ammarongiolo ma... profuma di acrumi è veramente buono No 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 Sono appena tornato da... da Lucca... ma stasera è Halloween, non si può dormire... quindi... Cappuccetto rosso e il lupo cattivo sono fermi al banco Matt No Però No 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 Ma 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 a tarda notte la serata è finita io stamattina le 10 ero a lucca adesso sono le due le tre di notte sono a bolzano concerto e sono con cappuccino rossa e adesso ci andiamo a letto perché siamo stanchi prima però dovremmo fare un'opera di struccamento non indifferente e finiremo tardissimo comunque insomma se vi è piaciuto il video cliccate il mi piace qua sotto iscrivetevi al mio canale e condividetelo il video con i vostri amici ci vediamo presto ciao ciao e queste armi dai cazzo minchia